Non riesci più a dimagrire? Il tuo metabolismo è ralentato? Ti dirò tre cose da fare per stimolarlo. La prima cosa è fare attività fisica, sia con i pesi che cardiovascolare. Così aiutiamo il nostro sistema cardiocircolatorio a stimolare, a far arrivare l'ossigeno in tutte le nostre cellule. In più l'allenamento con i pesi, quando siamo a riposo, continua a lavorare, quindi di conseguenza bruciamo ancora di più grassi. Un altro consiglio che vi do è quello della crioterapia, quello dove entrate in questa specie di vasca con le temperature molto basse. Questa è una bomba per il nostro corpo perché stimola il metabolismo, aiuta contro le infiammazioni, è antiossidante, detossificante, ha un sacco di principi molto utili al nostro organismo. Quindi usate anche questo.